Buonasera Simone, la prima domanda che le faccio è questa, come si spiega i due inizi di tempo, prima e secondo, po' contratti, timorosi, è lì che avete pagato Dazio alla fine, tirando le somme. Sì, ciao, buonasera a tutti. Sì, sono d'accordo. Noi abbiamo perso la partita nei primi 15 minuti del primo tempo e nei primi 15, penso, del secondo. Una spiegazione vera e propria è difficile da trovare perché purtroppo non è la prima volta che succede e nonostante nello spogliatoio si dica e si ridica, poi evidentemente in campo facciamo fatica e ci mettiamo troppo a trovarle misure, a trovare l'atteggiamento giusto. Solo che in un campionato come questo, la Serie B, dove l'aggressività, la corsa, sono tutte componenti che tutte le squadre hanno, anche quelle che sulla carta sono inferiori a noi. E quindi il rischio grosso, come è successo oggi ma anche altre volte, è che tu comprometti la partita per questi minuti iniziali. Io penso che nelle ultime settimane stiamo facendo meglio sotto il punto di vista del gioco, perché durante la partita riusciamo a proporre qualcosa di interessante e secondo me è una manovra anche più fluida rispetto a prima. Però non basta, poi io sono uno molto pratico, quindi le parole se le porta via il vento e quello che conta sono i punti. Simone, sicuramente un Parma generoso, sicuramente però un Parma che nelle ultime partite ve le venire meno anche quella solidità difensiva che invece aveva caratterizzato il primo periodo dall'arrivo di Iachini, intendo. Anche questo c'è una spiegazione secondo lei, Simone? In settimane stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva, tanto anche su quella offensiva e ovviamente è uno dei primi tasti che ha toccato il mister quando è arrivato ormai tre mesi fa, quello di cercare di sistemare la fase difensiva per cominciare a subire meno gol e in generale meno occasioni da parte degli avversari. Sono capitate come per esempio a Cremona partite dove fanno tre tiri e tre gol, altre dove invece Maris subia meno gol ma di occasioni ne sono arrivate. Però, come ho detto prima, stiamo lavorando tanto e anche bene perché abbiamo un allenatore che comunque è molto esperto alla categoria, ha vinto e ci sta curando veramente ogni minimo dettaglio. Poi è normale, ci sono anche gli avversari, ci sono delle situazioni di gioco che ti possono dare fastidio, può essere l'atteggiamento dall'inizio e dal secondo tempo che comunque partendo molli anche dietro poi fai fatica perché la fase difensiva è una fase appunto che parte dagli attaccanti e arriva fino al portiere, non è semplicemente questione di difensori. Simone, buonasera intanto. Tanti gol subiti per errori individuali, lo diceva anche prima Mr. Iachini in conferenza e tu che la vedi da dietro, vedi tutte le azioni, vedi i tuoi compagni, hai modo di parlare con i difensori anche più esperti, ti aspettavi di subire così tanto durante una partita, così tanti tiri in porta, di dover fare degli ottimi interventi anche come hai fatto oggi nel secondo tempo e vedere poi degli errori che costano così caro. Mi riferisco ai gol di Cremona dove sia Danilo che Osorio, insomma, a livello individuale hanno sofferto e anche oggi la situazione si è un po' ripetuta. Allora, sicuramente nelle ultime settimane stiamo lavorando, ma in realtà è un'idea di gioco che ha portato Mr. Iachini che a me piace perché ovviamente è un po' più rischiosa che quella di giocare uomo su uomo dietro. Ovviamente è un po' più rischiosa dietro, però l'idea è quella poi di dare una mano ai giocatori offensivi che abbiamo, quindi cercare di recuperare la palla in una determinata zona del campo alta e non aspettare dietro e poi ripartire. Però è normale che ti può portare qualche rischio in più perché il portiere deve cercare di giocare un po' più alto, i difensori nell'uno contro uno rischiano perché se ti saltano non hai le coperture dietro. Però è un gioco che stiamo vedendo tante squadre lo stanno adottando, è normale. Noi abbiamo iniziato non da tanto tempo, non è appunto un lavoro iniziato quest'estate e portato avanti e quindi anche farlo in corsa non è facile. Però come da un punto di vista abbiamo subito diverse situazioni da gol e subito qualche gol, è anche vero che ci sono tante palle che recuperate appunto già a metà campo, già nella zona alta di campo, ti possono dare una mano davanti. È un'idea di gioco che abbiamo sposato tutti quanti insieme e stiamo lavorando su quella e la stiamo migliorando. Però è normale che, ripeto, in partita può succedere qualsiasi cosa. Purtroppo ne stiamo pagando a caro prezzo. Poi queste partite stanno anche compromettendo la classifica del Parma, una squadra che è troppo lontana dalla zona playoff che era l'obiettivo minimo dichiarato ad inizio estate. Se tu che sei anche un senatore di questa squadra ti saresti mai aspettato di vederti così lontano e fuori dalla lotta playoff, ad oggi sembrerebbe anche quasi in maniera un po' definitiva. Una rincorsa compromessa dopo questa sconfitta? No, compromessa no. È normale, dobbiamo essere realisti, che il nostro obiettivo ad oggi deve essere quello dell'ottavo posto. cercare di agganciare quelli davanti. Poi è normale che in un campionato particolare come quello della Serie B, se si riesce a fare un filotto di vittorie, puoi guardare anche un attimino sopra l'ottavo posto. Ma ad oggi dobbiamo essere realisti e dobbiamo puntare a quello. Abbiamo i mezzi per farlo. È normale che rispetto a quelli che erano gli obiettivi di quest'estate, le cose sono cambiate. Sapevamo che il campionato era difficile. Io personalmente l'ho fatto per tanti anni e lo sapevo. Però è normale che nessuno si poteva aspettare una situazione così delicata. Però che sia compromessa no. Grazie a tutti.